benvenuti a tutti ragazzi quest'oggi evento speciale dell'anno di tutto inverso giochiamo a fortnite battle royale senza neanche dirlo beh era tanto che non ci vedevamo in un video non c'è intatto da dire in questo periodo tenterò di più a fare video dal computer avendo ottenuto la terzatura necessaria e sarà i video saranno molto più belli naturalmente vabbè dipende anche dai giochi che porterò però saranno belli ve l'assicuro giociamo alla battle royale all'inizio sarà tutto in due di perché non mi carica la mappa non capisco perché non mi carica la mappa quando dice qui non mi carica la mappa spero che la partita andrà bene ci ho giocato perché sono di livello 7 ci ho giocato in privato con i miei amici ho fatto due vittori royale ma non lo so scoprirete ora ok tutto è in due di 2d oddio siamo già startati che bello che bello che bello che bello non so dove andare ci siamo avendo in due di tabella che sono che non c'è nessun altro con me sono solo questa cosa mi solleva molto sento un baule ok buonissimo vai 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 perfetto scusa vabbè direi di buttarci quest'arma qua perché sono le stesse identiche ho visto qualcuno una kill è stata fatta mamma mia subito così che bella moto non c'è più nessuno sembra che io avessi spammato prima ma perché il fugile automatico e quindi va da solo dopo il primo click e quindi ma me lo prende giusto per avercela la mia guida spericolata bello questo bello questo me lo vediamo anche più è stata vicino ah vabbè sempre io bello il fice di piano non mi ha fatto niente bello 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 Cioè, non credo di essere bravo a fare il cecchino, però a me piace veramente tanto. Ceccinare la gente a distanza è la cosa più diversa cosa fare nei logici di... Lotta... Come Call of Duty. Io ho fatto anche altri video. E in uno dei tanti è andato... Per i miei budget virali, 70... Aspetta, però non mi piace perché... O ho pagato oppure... Secondo me ho pagato. Io direi che questa è la prima passetta per fare il cecchino. Vediamo un poco. Ok, un bel pompo. Perfetto. E abbiamo anche l'arma da corpo a corpo. Che sta per passare il treno, quindi noi ci dobbiamo andare da qua. E infatti... Io me ne vado perché... Sul treno ci sarà sicuramente qualcuno. Anche, non mi piace quello che farà. E infatti... E infatti... O... E infatti... O... 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 Lo sapevo che arrivava un po' prima, ma almeno è quello che supera l'altro. Può vedere il cecchino? Non mi sembra che ci sia nessuno. No, no, non c'è nessuno. Perfetto. No, no, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Un'nodget. 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 Sì! Godus! Mi prendo un po' qua. Niente di cà. Beh, prendo questo perché mi sembra simpatico. No, neanche così tanto. Un motore? Un motore? Un motore? Che fine ha fatto il motore? Vabbè, il motore è andato, mi so. Io non lo vedo più. Sì, è proprio andato. È andato a fanquic, però. Ok. Ok. Oh, guarda se vedo qualcuno qua a distanza. Oh, guarda. Oh, guarda. Oh, guarda. Oh, guarda. No. È andato a capì. Oh, ma la mia. Mi sono cagata addosso per un attimo. questo giro io vedendo questi qua non c'era niente questo non capivo da dove veniva dove era pensavo che mi stesse coltendo un tizio da lontano comunque sono povero di munizio ecco la mia morte sì la riconosco però non conviene non conviene perché di notte non si vede magari c'è qualcuno che mi vede io non lo vedo quindi mi spara dal nulla non si dai mi servo non si vede Isola Non so se c'è qualcuno qua, vabbè ci sarà per forza Lì c'è un butto di roba Spero solo di non morire all'ultimo All'ultimo Oh, vediamo All'ultimo 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 e sto sparando se hai sentito qualcuno arrivare con la moto come ho pensato ok, ok l'ho visto l'ho visto mannaggia io ho tolto tutto lo scudo penso mannaggia non pensavo cioè mi sono buttato da tre centine ah, vedi sto sono confuso ma non c'è nessuno non c'è nessuno non ci sono neanche spari io mi sono cacato addosso veramente mamma mia non c'è nessuno siamo in dieci sento qualcuno che spera qua non c'è nessuno 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 dicим è dedicale non c'è nessuno si quella dio di stanno tutti io la sei non c'è un nuovo visto vabbè chi se ne vede per me arrivare a 3 piumi 10 va bene dato che ho iniziato a giocare da poco qui si 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 le due tizie sono usciti sento spari e ci sono Oddio, ho visto un tizio. Sì! Non ci sono riusciti. Mamma mia, sto cecchino. Non è male che l'ho trovato, ho avuto una fortuna pazzesca. Non mi servono queste. Non ce ne viene, che bello. Saranno tutti qua ora. Siamo in tre. Siamo in tre. Siamo in due. Due, 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 due. Siamo in tre. Sì, vittoria reale. Vai, vai. Vittoria reale. Va bene, ragazzi. Detto ciò, direi che il video si è concluso alla grande. Ci vediamo ad un prossimo video. Iscrivetevi, lasciate like anche nel canale di Nick. Ci vediamo ad un prossimo video. Ce l'abbiamo fatta.